E all'improvviso è sbuccata l'Inter. Mamadou Koulibaly, il gioiellino senegalese del Pescara, appetito da mezza Serie A, potrebbe finire proprio al club nerazzurro dopo l'incontro avuto ieri a Milano dal presidente Sebastiani con la dirigenza interista. Bruciata dunque la folta concorrenza con Juventus in primis, ma anche Milan, Atalanta e Sampdoria, che nelle scorse settimane avevano chiesto informazioni su Koulibaly, dandosi appuntamento a futuri incontri. Invece l'attacco sferrato ieri dall'Inter ha lasciato il segno e nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro per la chiusura. Si rinforza dunque l'asse Pescara-Inter, lo stesso che lo scorso anno aveva portato allo sviluppo della trattativa per la cessione di Caprari e l'arrivo di Biraghi a titolo definitivo e di Manai in prestito. Koulibaly finirebbe in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto per l'Inter. Tra le contropartite dell'operazione l'approdo a Pescara di Marco Carraro, centrocampista classe 98, fresco di titolo con la primavera di Stefano Vecchi. Sempre con l'Inter il delfino aveva già definito in linea di massima l'approdo in rival adriatico della mezzala Andrea Palazzi, lo scorso anno sempre in B alla Provercelli. E l'asse potrebbe portare altri risultati perché, se è molto difficile arrivare al centrale Zinio Vanoisden, non è affatto tramontata l'ipotesi del prestito del terzino Federico Vaglietti. Ore decisive per il centravanti Simone Andrea Gans, l'uomo scelto da Zdenek Zeman per essere il riferimento centrale del suo tridente. Sul giocatore di proprietà della Juventus, l'Ellas Verona ha un diritto di opzione e da tempo fino a domani per poterla esercitare. Da giovedì insomma il quadro sarà più chiaro e se il giocatore, come sembra, dovesse restare di proprietà della Juventus, il Pescara lo potrà prelevare. A meno che il presidente del Genoa, Preziosi, non affondi sul cartellino dell'ex Comasco come nuova ripicca per il mancato arrivo di Lapadula lo scorso anno. Sul fronte uscite resta forte, nelle ultime ore, il pressing del Benevento sull'Edian Memuschai e l'interesse del Cagliari verso Cristiano Biraghi, ma il club del presidente Giulini se la deve vedere con Udinese e Sampdoria. Intanto sempre oggi il Pescara ha annunciato il prolungamento dell'accordo con lo sponsor tecnico RA per altri quattro anni e dunque fino al 2021.